Ebbene sì, sono stato arrestato su Pandora S&P. Scoprirete come all'interno di questo video, ma vi basti sapere che si è trattato di un'enorme ingiustizia. Motivo per cui, dopo il rilascio, ho iniziato a programmare la mia vendetta. Vendetta che avverrà questa sera sul mio canale Twitch, dove tutti i giorni tranne la domenica potete trovarmi in live. Non avete la minima idea di quello che sta per succedere. Sento spoilerarvi nulla di quello che è successo. Eh sì, diciamo che mi ritrovo un totem del non morto, mi ritrovo un enchanted golden apple e 32 diamanti. Dovrei craftare un ender chest? Sì, non abbiamo aperto l'end ancora. E soprattutto, a parte che l'end non serve, ma non abbiamo aperto neanche il nether, quindi non sa da fare. Direi di svuotarci un attimo l'inventario, perché in questo momento fa davvero cagarissimo. Non è affatto importante, perché signori, oggi io voglio partire all'avventura. Come detto, voglio andare dove mi va e non fermarmi mai. Questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon. Ho stick in giro, ho stick in giro. E ok. Direi che possiamo partire. Possiamo partire all'avventura e... Mi rifiuto. Non è che la prima cosa che apro mi devi fare il jumpscare, però. Guardate come ho fatto il sistema. Io le porte le rompo. Io le porte le rompo e non le apro più. Tiè. Cazzo! Ricopriamo questo blocco. Per il resto non vedo molto altro. Ah! A proposito di non vedo molto altro. Io vado via dal server per una settimana. Guardate che cazzo succede. Hanno creato un gigantesco campo di grano qua dietro. Gianco e Giacomo. Laggiù c'è addirittura un murino a vento. Io vado via davvero per... Sette giorni! Sette giorni! E torno così. Qua stanno creando tutti quanti i percorsi verso 100 città. Ma guarda che cosa carina! Che è che ha utilizzato i materiali della natura per questo scempio? Per una statua dedicata al re? Al re di chi? Il re delle mie brache? Eh? Il re dei miei pantaloni? Delle mie mutandons? Odio vivere in un posto con una statua che mi ricorda il potere. Beh. Puh! Ci sputo contro! Che schifo! Ho perdonato il contedato. Ah tra l'altro volevo controllare. No! Hanno tolto il cartello! No! Che tristezza! Qua c'era scritto mangione del contedato. L'avevo cambiato di nuovo il cartello ma l'ha tolto. Ok. Direi di andare a esplorare. E direi di muoverci in questa direzione. Dal momento che questa qua è una direzione che ho sempre esplorato. Vorrei un attimo proseguire in qua. Ah. Va bene. Never mind then. Stai. Che cazzo è quella roba? No wait. Sì. Arrivo. Zona di luce. No. Piano. Adesso l'ho perso di vista. Era tipo in là. Ma quello non era un megafungo. Quella è una gigantesca struttura. Quindi o abbiamo sgamato... Aia! La casa di qualcuno. Oppure non saprei dove ci stiamo andando a cacciare. Eccolo qua. È proprio lui. È il dorado. E intanto grazie anche a Mario per la sub col Prime. Un bacione. Bello. Benvenuto. Scusami ma sono impepeghito un attimo. Mi son perso. Tanti tanti coriccioni per te. Che cazzo di posto è? Ma è meraviglioso. Stiamo pian piano risalendo queste cazzo di rovine. Ma perché poi cazzo di rovine? Perché devo mettere le parolacce ovunque? Porca di c***a. Non so neanche se io stia seguendo la direzione giusta. Potrei non essere indirizzato bene. Come tre cobweb. Oh perché mi sono incastrato. Mi indirizzate tre? Bellino. Posso incastrare Crista a qualche parte. C'è un senso logico? In quello che sto facendo. Libreria Pog. Dammi subito. Dammi subito la libreria. Non ho neanche un'ascia con me. Pog lanterna Pog lanterna Pog. Cosa abbiamo qua? Un leggio. Ma questo è runico. Vediamo se riesco a decifrare quello che c'è scritto su questi libri. Allora. C'è scritto. Grazie a Twitch Prime o meglio quello che una volta si chiamava Twitch Prime ma adesso si chiama Amazon Prime Gaming potrete abbonarvi gratuitamente al canale di Tearless Raptor. Grazie Pachy per aver ascoltato il libro. Ragazzi ce lo sta dicendo il libro runico. E grazie anche a Ludwig the Warrior. O a Ludwig the Warrior. Questo non lo so. Comunque. Un bacione belli. Benvenuti. E grazie a Madara Pepsi. Grazie a Disdead Kick. Wait. Questi sono numeri. Sono numeri che potrebbero rappresentare coordinate. Coordinate lontanissime. Perché 13.209 46.899 è lontanissimo. Ma tipo troppo lontano. Anche qua guarda. Sembra più un diario questo. Diario di una persona molto preoccupata anche. Boh. Non lo so. Io ve lo dico. Me li prendo su entrambi. Me li riporto a casa. Magari qualcuno è in grado di leggere questo linguaggio. Scritto da K. Chi cazzo è K? Casey? Gianco? Fieric? Daleoc? Voglio bestemmiare! Voglio bestemmiare ma non lo faccio! Ma che bellino il collegamento di Franzo fino alla piazza centrale. L'unico che l'ha fatto. L'unico che ha fatto una cosa seria. Manco il re ce l'ha. Parliamone. Wait. Chris che cazzo... Ah pensavo si facesse fico Chris. Invece no. Ma... Che cv? Perché hanno... È sbarrato. È evitato l'ing... Oh! Ok. 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 È evitato l'ingresso. Ok. 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 Me ne vado. 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 Di ogni tipo portatele da me. Faccio affari ottimi. Signor Dado? Oh. Oh. Signor Dado? Mi scusi ma non sto bene. Ah no. Sì però. Cosa succede? Ma perché in suo server stanno tutti male ultimamente? Mi dica. Mi dica. Sono venuto io a bussare e le chiedo mi dica. Comunque. No. Ascolti. Ho visto il suo annuncio sulla bacheca. Ah sì. Mi dica. Mi dica. Allora. Qualcosa per me? Guardi. Al di là del fatto che ho una serie di insulti da rivolgerle per aver costruito quello scempio di monumento dedicato al re. Le capi di che non è altro. È bellissimo il monumento ma non è bast... Allora. Signor Tier. Io sono raffreddato. Ok. Sono incazzato con il re. Perché è santa la madonna. Io gli ho costruito un monumento. L'ho fatto interamente con blocchi d'oro e non gli è andata bene. Ah. E ho fatto questo e ho fatto quell'altro e non mi ha ancora fatto conto. Sono in questo limbo in cui non so se diventerò conto un giorno ufficiale di sta Pandora. Guardi. Mi guardi bene negli occhi. La sto guardando benissimo negli occhissimi. Sto per dare di matto. Siccome ho visto che lei sta cercando oggetti tutto sommato preziosi, rari, unici nel loro genere, stavo esplorando un attimino il mondo e mi sono imbattuto in questi due libri scritti con un alfabeto che io personalmente non riconosco. Glielo ho portato perché pensavo potesse interessarle. Lo vende? Mi scusi, lo vende? Ah, lei lo comprerebbe? Ma se me lo vende sono contento, mi scusi. No, più che altro perché io, sa, io non ho un grandissimo bisogno di niente in particolare. E volevo dire un'altra cosa. Facciamo così, signor. Sì, proponga. Lei qualsiasi cosa farà riguardante questi libri. Mi faccia solo sapere almeno che cosa ha scoperto perché sono molto curioso. Ok. Quindi li terrò io e al massimo le la tengo aggiornate intanto. Poi eventualmente glieli venderò, facciamo così. Però ho una copia se vuole. Tenga, le posso lasciare la copia intanto. Quelle, se vuole, faccia pure. Basta che mi ridia gli originali. Altrimenti sarò costretto a cacciare fuori il ferro. Grazie. Ciao, Max. Salve. Buonasera. Che tal, signor Tirless? Ma nulla di che. Prima, per sbaglio, sono entrato nella sua locanda e ho visto il pavimento. Complimenti, mi piace molto. Ah, grazie. No, ma adesso le spiego un secondito perché se no sembra equivoco. Sembra? Lei deve vederlo da qua. Ok. Allora, praticamente questa qua è una rappresentazione di una leyenda antigua mexicana che rappresenta la cascada della paz e della prosperità. Quelle che vede sotto sono praticamente... È alla rovescia in questo momento, no? Perché è rivolta verso l'entrata. Praticamente ci sono queste due roccas che sono le rocce da dove nasce la cascata. E poi c'è la cascata che va appunto verso l'entrata. Sì. Che arriva a quel laghetto che c'è là in fondo, che è appunto il laghetto della paz e della prosperità. E le cose bianche sono per l'appunto la prosperità che ti prende la cara, no? Ti prende la faccia. Perché tu entri e hai già la prosperità che ti arriva in fondo. Quindi praticamente è un modo per benedire tutte quante le persone che entrano all'interno di questa locale. Beh, una benedizione calda e cremosa. Esattamente, vedo che hai capito perfettamente. Sì, 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 sì. Beh, mi piace come spiegazione. Rimane comunque equivoca, mi creda. Bellina la storia della prosperità che ti viene in faccia. Cioè, mi piace molto. Molto poetica. Vaffaculo! Stronzo, pezzo di merda, bastardo, infame, scemo, coglione. È scomparsa. È il re. È il re. È proprio lui. Sai che mi ha fatto prendere un po' una cacarella? Perché ho sentito R mentre camminavo nella mia cucchia testa. Oh no! Oh no, si sentiva fino laggiù. Sì. Scusi, sì, scusi, scusi. In realtà volevo semplicemente aggirarla da dietro e spararle un colpo nel coppino. Ma, cioè, nel senso, così diretta, abbastanza, nel senso, nemmeno non nasconde questa cosa. No. Sa che io ho dei problemi con l'autorità. Può aspettare giusto un secondo lì vicino all'albero? Sì, guardi, mi giro. Arrivo. Vada, vada. Se le date a gambe. Va bene. Vorrà dire che dovrò entrare nel castello. L'ha lasciato aperto e incustodito. L'ha lasciato aperto e incustodito e quindi sapete cosa faremo? Lo aspetteremo qui. Slash sit. Proprio ci sediamo a modigarlo Barlgruf di Skyrim e vediamo, guarda che sta tornando. Guardalo lì che bellino col cannocchiale. No, no, no. Guardi, aspetti quel secondo, nulla di personale però. Io, no, no, ma guardi, in realtà io sono semplicemente una persona che va in giro a recensire le sedie. Io ho un intero canale in cui recensisco sedie. e volevo un attimo vedere il trono se fosse comodo. No, 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 giustamente. Guardi! Ci seguo un secondo qui a fianco all'albero. Devo sedere qui. Mi sa molto di esecuzione però, signor... No, 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 no. Signor Re. Ho intenzione di costruire un patibolo per esecuzione comunque. Ma no, dai, Fra, non serve il patibolo. No, no, giusto per precauzione. Non per lei comunque adesso nel caso. No, bro, non ho fatto niente io. Signor Tier, lei... Di cà? Lei è molto rivoluzionario. Non va bene questa cosa. Ma scusi, io semplicemente... Non la riconosco come mio re, quindi la chiamo bro. Infatti stavo sentendo però capisce che lei comunque vive in questo regno dove comunque sono re. Certo, ma infatti la chiamo bro, è la parola che più si avvicina a re se ci pensa. Sai che lei comunque è abbastanza di qua in questo momento. Per quale motivo, bro? Cosa ho fatto? Cioè, c'è un grosso problema qui. C'è una persona che si è abitratta nel castello, si è seduta nel trono, pure! E mi chiama bro. Ma bro, ma qual è il problema? Io l'ho detto, io non lo riconosco come re. E la parola che si avvicina... Magari. Ma è stato legato all'albero? No, 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 sono soltanto seduto perché così mi è stato chiesto. Perché aspetti, perché la sto ascoltando? Scusi, no, mi rialzo. Dica. Allora, intanto un po' di rispetto per l'autorità che dà il pane alla sua famiglia. Se lei ha ciò che ha è grazie a sua maestà, tanto per cominciare. Ma io non ho il pane. Io mangio patate, quindi non mi è stato dato proprio niente. Mi creda. Scusi, ma se c'è una legge che impedisce di entrare nel castello, perché lei entra nel castello? Volevo dare un'occhiata. Magari come... Che mondo sarebbe senza leggi? A proposito di leggi, possiamo patteggiare? Ho una proposta. Non si patteggia nel senso... Non è nelle condizioni di patteggiare, però... Ah, quindi vuol dire che sono a posto se non sono nelle condizioni di patteggiare? Vuol dire che non ho fatto niente di grave? No, lei è nei guai. Ma è nei guai. Comunque, in realtà io volevo dirvi che tra le leggi affisse in piazza, non c'è la legge che vieta le persone di abbattere i cartelli e quindi rimuovere le leggi. Conseguentemente io potrei andare lì e togliere tutte quelle leggi. Tra cui non c'è scritto che è vietato entrare qua dentro. Pertanto mi appello al codice penale, pagina 27, capitolo 15,3. Non potrebbe aver ragione. Vada tranquillo, bro, mi siedo sulle scale. Wow, stanno parlando di celle. Cazzo, stanno parlando di celle. Forse parlavano di 100 celle. Forse volevano andare in gita a Roma. Però sapete una cosa? Se fuggo, sono ancora più nei guai. Io sono tranquillo. So di non aver fatto nulla di grave, quindi... Mi addentro nel castello e mi metto a guardare attorno. Ehi, bro, che si dice? Allora, lei signor TR è nei guai. Lei sta oltrepassando tutti i limiti. L'abbiamo trovato! Guardie! È qui! Io no. Ah, posso andare? Arrivederci. Buona serata. No, no, no. Guarda, non lasciano le guardie. Buona fortuna. No, ma come... Ma io... Ma bro? No, bro? Cosa mi combina? Lei è in arresto, signor TR. Come sono in arresto? Sì, mi dispiace. Ci segua, ovviamente, con le maniere forti. Mi dispiace, ma lei è in possesso di uno splendido sorriso e dovremo portarla con noi. Aspetti, aspetti, aspetti. Aspetti un secondo. Sì? Sì, bro? Sì. Arrivederci, bella zì. Scusi. Vorrei semplicemente sapere quali sono le leggi che ho infranto e dove stanno scritte e per quale motivo sto venendo messo in custodia. Non c'è scritto. C'è scritto che hai vietato a costruire nella valle. Arrivederci. Ma come arrivederci? Leo. Ti tengo d'occhio. Leo, amico di Atabicraft. Perché mi fai questo? Perché mi pagano. Ah, al soldo del padrone. Schiavo del padrone. È pronto. È pronto. Eric. È pronto. Questi che mi vogliono tagliare la gola. Alduin, dove sei? Ho bisogno di te in questo momento. Fuori, fuori, fuori. Devi sederti lì. Si segga. Signor TR, ma cosa combina? Addio. No. Devo recuperare le mie cose. Ah, speravo non se ne accorgessero. Però con la musichetta che ho in questo momento in sottofondo è tutto più ridicolo. Questa è una dittatura bella e buona. Lei è evaso di prigione. Io non ho fatto niente. Mi scusi, mi scusi. Lei sta citando reati che non esistono, però. Venga con me. Venga con me. Mi segua. Mi segua. Le dimostrerò che questi reati non esistono. Legga questi cartelli. C'è scritto che hai vietato possedere... Ah, le leggi reali sono le seguenti. Vietato possedere e o usare armature in diamante. Vietato possedere e o usare villici. Vietato costruire o rompere nella vallata. Cosa che io non ho fatto. E infine, vietate farmi intensivi soprattutto nella pianura. Io ho fatto cose di questo tipo? Sta leggendo le leggi. Io non... Queste sono le leggi aggiunte. Sono le nuove leggi queste. Io non ho infranto nessuna delle leggi qua scritte. No, qui queste sono le nuove leggi. Eh, quelle vecchie dove sono allora? Le leggi le ha già lette. Le le so già. Sono queste le leggi. No, queste sono quelle aggiunte nuove. Queste sono le uniche leggi che io vedo qua. No, queste sono quelle che vengono aggiunte per avvisare tutti. Queste sono quelle... Comunque, signor re, io non vorrei dire, eh bro. Però... Qua... Cioè, ci potrebbe essere un piccolo brevino. Le sue guardie abusano leggermente del loro potere. Sì, avrà vita lunga, signora. Guardi, sono già stato ucciso più di una volta, quindi cosa mi cambia ormai? Facciamo una cosa a metà. Finché non c'è la legge che dice che non si può chiamare il re bro, tu ti adegui e lo chiami bre. Bre, va bene. Grande bre. Come stai? Oh, batti 5, amico. Grande bre. Allora, questa è mancazza di rispetto verso il re, signor Tierra. Ma mi scusi, ma... L'ho proposto la sua spalla destra. Sbraccio, destra, spalla, uguale, stessa cosa. Gomito, sono il gomito io. È il gomito. Non mancare... Mi scusi, vostra altezza, non accadrà mai più. Signor Tierra, lei la teniamo d'occhio e non faccia altri casini. Sì, figuri, sì, figuri, signor Nova. Arrivederci, vostra altezza. E andiamo, abbiamo vinto noi, cazzo. Abbiamo vinto la causa. Visto? I fatti prevalgono sempre sulle parole. Ce la siamo scampata. Madonna, raga. Che cosa stupida è appena successa? Signore Emerald, ma non si rischia un po' di DMCA? È scomparso! Non ho della bone meal. Ho soltanto un osso? Mannaggia il cazzo. Il compost! Bravo, il bidone del compost. Il fatto è che serve molto più di quello che pensassi per ottenere una singola bone meal, vero? Sì. Posso usare anche le patate? Farm automatica? Sei pazzo! Automatizzare le cose è proprio l'espressione massima del capitalismo. Sei scemo. Facciamoci tutto quanto il bone meal necessario per poi andare a farmare un paio di alberelli di Dark Oak. Ne hanno bisogno di un foto. Ma così dal nulla? Ma senza una ragione? Tizio 20 è morto di paura! Chec! Chec risculo! Comunque è bellino. Cioè... È bellino quando sali e ti ritrovi qua all'Enchanting Table con tutto l'albero che poi salirà sempre di più. Sì, se considerate che quella lì potrebbe essere la base dell'albero potrei far salire di un altro due blocchi questo strato che ho fatto poi farne uno di tipo 10 e poi riaprirlo un attimino con i rami che escono fuori. Vado un attimo in bagno torno e andiamo dal contedato. Possiamo? Eh, eh! Madonna! Salve! Era davanti alla porta che ho bussato lei e è apparso. Eh, ho sistemato delle sedie che non avevano più i braccioli ma in realtà ce le avevano perché erano solo invisibili, sa? Succede. Sono confuso ma lo accetto. Salve! Salve! Buonasera, salve. No, guardi, io ero venuto qui per chiederle se per caso ci fossero degli aggiornamenti riguardo ai libri che le ho portato settimana scorsa. Ho praticamente stirato un piccolo alfabeto. Sì! Manca ancora qualche lettera però di base ho stirato un piccolo alfabeto quindi noi in teoria stasera potremmo riuscire a decifrarli. Ok, buono! Beh, se vuole possiamo metterci al lavoro e decifrare tutto quanto. Prego, io sto costruendo una cosa molto, molto segreta ma lei come modo di fare secondo me potrebbe vederla e potrebbe apprezzarla. Interessante. Non le dirò ancora per cosa serve questa cosa che sto costruendo ma è molto grande. Venga, venga. È un altare contro le rane? No, chiedo. Eh, poi capirà. Sono un po' pazzo per Gesù, ragazzi. Lasciate fare. Fa parte tutto del gioco. Scusi! L'ho detto che era un po' grande. Non era quello che mi aspettavo dopo questo piccolo tunnel tutto basso tutto quanto stretto non mi aspettavo questa gigantesca colon. Bello, bello questo Dark Souls 4 mi piace. Quindi, attualmente è leggenda narra che anni fa durante i tempi bui vivesse un possente guerriero nato durante una delle notte più fredde di sempre una delle notte più fredde di bufera virgola Ma, mi scusi, ma non c'è un modo più semplice di tradurre tutta questa cosa? Probabilmente sì se c'è qualcuno che è in grado di tradurlo sì altrimenti dovremmo affidarci a macchinari impropri Allora, mi dicono dalle regia una tempesta imper... imperturb... Intempestosa? Non lo so Intempestosa No, imperturbabile senza sosta, sì Vabbè, quella roba lì senza sosta quando lì dietro di lei un solo sinistro uno sgorbio nero alto quanto due case le si avvicina senza di più È la leggenda della nascita di un eroe ma qua si parla della mamma che è gravida correva in... tipo Mary dei cepelli diversi, no? Ah, ok Le spalle della donna si accasciarono sul pavimento e fu in quel momento che Siegfried nacque appena uscito dal grembo si alzò in piedi prese la zampa dell'orso che ormai vicino e gli la strappo via Eh, madonna con che cattiveria Cattivissimo lui Porca troia Era proprio un chaddone È turbo chadd questo Turbo chadd Prego Signor Mollura Salve Tado Abbiamo visite? Tado In che senso abbiamo visite? In questo senso abbiamo visite? Diciamo che mi sono ritrovato qui dentro Ritrovato non credo Allora, no, no Allora, allora, allora Non è come sembra Lei sta spiando per conto di qualcun altro Mi scusi? No, io non lavoro per nessuno Lavoro per me stesso Ok, mi piaci Infatti non faccio un cazzo nella mia vita Però No, no Sono arrivato qua E non Cioè, ho detto Stanno parlando come due pazzi Di qualcosa di strano Volete sentirla Come finisce la storia? Vada, vada Eh sì Ormai io mi ero affezionato un attimo Da quando ho sentito Siegfried Volei Siegfried Non Sieg Siegfried sembra una caramella No, Siegfried Quella notte era nata una leggenda Siegfried, uno dei più valorosi guerrieri mai esistiti Divenne famoso con il nome dello sterminatore di mostri E usurpatore di tiranni Mmm Mmm Usurpatore di tiranni Non so voi ma Non so voi ma Potrebbe, potrebbe essere carino insomma Approfondire questa leggenda Il ragazzo che è appena andato via di lei dicendo che il re è un tiranno Dice No perché forse era il pensiero che mi è scappato dalla testa Ho sentito che c'è una creatura che si aggira nelle caverne e in climi aridi Per nascondersi dal sole troppo coccente delle ore di punta Ok Questo Dà un indizio su cos'è questa creatura o? Assolutamente nulla Dice semplicemente che è una creatura che si aggira nelle caverne e in posti aridi Tutto qua Quindi sotto la sabbia Può essere Ma a proposito di posti aridi Nell'altro libro Nell'altro libro non c'erano delle coordinate Non è che magari Eh Fondamentalmente in questo diario per ogni coordinata Ti dice È un diario di bordo Ti dice che cosa lui sta guardando Quindi ti dice se effettivamente stava in un bioma caldo In un bioma freddo Dove diavolo era finito Possiamo informarci Possiamo andare a vedere nelle varie coordinate indicate su questo libro Se magari ci sono delle informazioni extra Se avete bisogno di una mano per andare a vedere le coordinate Io ci sono eh Signor Molura se lei vuole può unirsi a noi Ormai Ormai ha già tante informazioni potrebbe anche essere utile in realtà Ma signor Dado ma l'ho appena visto la sua spada afflosciata Ma è successo Perché c'è la spada afflosciata? Ma succede Ma non dovrebbe succedere Ma succede No non deve succedere È un po' d'ansia capito? È un po' d'ansia da prestazione Insomma capisce Beh scusate Allora a sto punto speriamo che la creatura sotto le sabbie sia Anka Sia? Anka? Non colgo la citazione Sono un... Anka zone? Scusi sono un po' Io sono dietro al signor Atier Non colgo la citazione Mi spiace Io sto guardando Vai vai Mmm Ho fatto un trend di tiktok per farvi capire Vi dico solo questo No 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 Ok Sto vedendo Chiudo Ah Capisco Bene Possiamo proseguire Particolare Decisamente particolare E l'ho salvato tra i preferiti Aia Mi prendo le frecciate per voi Aia Scusi Ha fatto ridere un sacco però Mi prendo le frecciate per voi BOM No scusi Sbaglio c'è qualcosa laggiù Un cammino tipo Sento Oh diamine l'ho visto anch'io Sembra Sembra una sorta di piccolo van posto No non c'è niente Mi fa molto strano Non è che qualcuno l'aveva trovato Ah no ma vede cos'è Aia Sono caduto E' lo scheletro di un'enorme bestia Aaaaa E' tipo il teschio di una gigantesca bestia Non so se lo vedo sotto io Ah ma queste sono le corna Esatto Quelle sono le corna Questo qua è lo spazio in cui c'era il bulbo gigantesco Nel dubbio Come facciamo Come fanno i veri esploratori Quando trovano qualcosa che non sanno che cosa sia Spaccano tutto Scavano dritto sotto i piedi Nooo Ma no cosa io non sto vedendo niente Eh appena scende avrà la mia stessa reazione Giungo immediatamente Nooo Esatto Nooo Cosa è sta roba Tira quanto sei bravo in matematica da 1 a 100? Nooo che cosa sono questi libri Ok la prendo per un 0 No ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Al di là del crashino ce la possiamo fare Ok è abbastanza comprensibile In realtà le uniche cose che bisogna fare sono Partire dalle righe o dalle colonne Che hanno già 3 numeri dentro Per poi vedere il risultato Accanto all'ultimo Ad esempio no La seconda riga 11 per X Meno 9 meno 4 Meno lag Bisogna vedere che cosa c'è al posto della X Allora la prima riga è 1 6 10 12 Ok La seconda è 11 16 9 4 Ok La terza è Buco 13 Buco 5 Sopra il 3 Sopra il 3 sotto il 2 mi sa Ok E poi sopra il 7 sotto l'8 Quindi in diagonale Ci servono i numeri in diagonale no? Si Si Che sono 1 16 7 15 E che vuol dire 1 16 7 15 Unendo i numeri dei caserne marcati in giallo Otterrete la chiave per decifrare il messaggio cifrato 17 24 Più 15 39 Congratulazioni Hai ottenuto la prima parte della coordinata che ti pensavo che avessi vinto un iPhone Scusa Eh ma magari Magari 166 Minchia Meno 11700 Ora Siamo anche vicini Penso sia quello no? Io vedo la torre però raga venite di qua anche dove sto io Non ti vedo E venite a 16500 E poi ti devo far vedere l'albero ammosciato cioè È quello che vorrei vedere io Cioè guarda Viene vedere Guarda Guarda quell'albero ammosciato Questo qua Questo qua da solo che c'è qui Sì Guardalo È l'albero ammosciato Sì in effetti è bello moscino Cioè Guarda guarda È piegato È tutto inclinato Ma cos'è? Si è piegato da dove? Le hanno dedicato un albero Si è entrata qua sotto Eh sì Mi sa di sì Lo Io già preparo la spada che qua secondo me c'è da me E mo? Dai che Ma cos'è? No signor Dato guardi qui Siamo stati ricrollati Ecco era questo Era questo il motivo per cui doveva venire fin qui Solo per questo Cosa c'è qua sopra? Oddio un parkour Non mi dite un parkour Ragazzi non so voi ma io sto sudando Io ho male al mignolo te lo dico Ma è questo salto qua Tier che non riesco a fare Non riesco a centrare il buco Non riesco a centrare il buco Non si può fare È un buco troppo piccolo Ma signor Dato Signor Dato Lei che ha questo particolare rapporto con Con l'altissimo L'ha costruito anche una chiesa No per caso non può invocarlo in questo momento Non nel modo in cui già lo sta facendo In un altro modo Ok Ecco giusto stavo per dire No 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 Guarda che alla fine picchiare zombie Non era poi tanto male come idea Alla fine Nova Re Sapete che non mi dispiace neanche così tanto A sto punto è data la prima coordinata che avete Vedete tutti i blocchi in linea retta Prima o poi troverete qualcosa Forse non è neanche così sbagliato No ma questo c'è da abbassarsi Sì sì guardi C'è il C'è 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 le divinità dall'alto che aggiungono cose È comparsa anche una scala dal nulla Dove Eh questa scala qua Prima non c'era In che senso l'ha spostata mi scusi Ma non ci arrivo Potrei essere caduto all'inizio E dove devo andarlo? Di avanti mi sa C'è lo slime qua in basso Dove rimbalzare sullo slime e atterrare lì sopra Sì ma adesso Adesso io cioè mi devo Cioè capisci che devo Sfregare il mio regale a ugello Ma in che senso Io ho perso il piccolo Perché l'ho troppo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No vabbè Il tuo è scomparso Secondo me Siegfried comunque aveva troppa Troppa fiducia nelle persone Che lo dovevano raggiungere Troppa fiducia in noi Cavolo Si sta rendendo conto Ci sta guardando tipo con una telecamera nascosta E c'è fra Con la mano in faccia Facecam Sì 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 qua sono proprio dei cazzo di incapaci Figa Vabbè aiutiamoli Oh le divinità mi hanno semplificato la vita Porco Ok ragazzi mi mancano tre salti Per arrivare in fondo Ci sono Signori Mi manca un salto Vai TR Sì Ce l'ho fatta C'è un'immagine di Spongebob Iper deluso davanti a una tazza di caffè E un leggio Un incantesimo ti impedisce di interagire Non posso leggere Meno 10.724 Sì è la seconda coordinata Y Meno 10.724 Ma ora voglio sapere cosa c'è scritto Ma dove cavolo sto andando Dove siete voi mi date la cortina Vi dico soltanto che è apparso un meme sotto i miei piedi Salve Sono in ritardo Per caso lei sa dove abita il signor Mollura? No peccato che magari andiamo a vedere se sta bene Andiamo a vedere il signor Mollura Venga venga Ah no Ah no Scusi pensavo fosse il signor Mollura Invece era la sua statuetta Ciao ragazzi Salve Scusi eravamo venuti a cercarla Eravamo preoccupati Tutto a posto raga? Sì 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 Tutto a posto Pensavamo che il signor Gianco l'avesse interrotto L'avesse incrociato in qualche modo Che è un po' sospetto ultimamente È vero il maiale Il maiale? Ho dovuto sgozzarlo Nooo Avevo fame e c'era bisogno di pancetti C'è il signor Gianco laggiù Scusi? C'è il signor Gianco laggiù Ancora? Vede vede che stai piazzando i blocchi Da dietro Qui Dove è Gianco? Esattamente qua dietro Sì vabbè è un ninja Signor Gianco Un ninja fallito comunque Decisamente fallito Gianco? What the heck? Sì Dove sta andando? Scusi dove sta andando signor Gianco? Dove stai andando? Ma cosa fai? Ma è una talpa che è? Vabbè senta Penso se ne sia andato ormai Quindi Possiamo andare Possiamo andare Devo giusto fare una cosa al volo Una questione burocratica Burocratica No Da qua non posso risolverla Ok risolta la questione burocratica Possiamo andare signori Sì 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 Ragazzi Questo è proprio complottissimo Ragazzi sentite sto Sto odore di carne Di odore di carne? Di carne marcia? Carne marcia? Ah Sento uno C'è della carne No basta È un incubo Nessuno di voi è dell'Ossidiana? No Cioè non con me Neanche io con me Facciamo molta attenzione Comunque io ripeto Non li ho mai visti I ninja nel medioevo Però Gianco veramente Sta diventando un ninja Io sono un ninja Oh cavolo E' un ninja? E' certo Ecco da che hai imparato le strategie Ha un po' di problemi Nel camuffarsi diciamo Decisamente Parecchi anche Decisamente parecchi problemi Nel camuffarsi Sì 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 ma belli grandi No no perché Poi stesse un po' distante No sta letteralmente a 15 blocchi da noi Il pirla Hai capito? Effettivamente Signor Gianco Vuole unirsi a noi Già che c'è? No non lo so Chiedo Signor Gianco siamo qua nel dubbio Se vuole si unisce a noi No signor Gianco Se vuole si unisce a noi Cacotardo Madonna Dividiamoci e troviamoci alle coordinate Sai che non sarebbe una brutta idea? Ahà Oh porca puttana Si or dato? Quei là? Sì Signor Mollu Salve Guardi Noi abbiamo messo il letto proprio in mezzo alle streghe Dobbiamo farci strada Sì bene Guardi qua Ma lei è veramente OP Mi scusi L'ho rubato da un villaggio per strada Io non vorrei dire Ma probabilmente Giunti a questo punto Ci conviene mettere via le lanterne E tirare fuori gli scudi La testa del villager si chiama Romi 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 Ah Romi Scendiamoci al prigioniero qua Il prigioniero? È vero c'è un prigioniero Ma è topolino È topolino Topolino Però mi stanno usando come sorcio dal laboratorio Ah quindi è topolino Ma che è topolino sì Ma quello è Romi 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 Lui indossa la testa di Romi Chi è Romi? Romi Non ho capito una parola ma va bene Magari è indistruttibile Quella è una bella idea Aspetti che arrivo a romperla a fune Ciao topolino Non sono topolino Tranquillo topolino Ci sono io a difenderti Ah eh ho finito i blocchi Aspetti Ah no ce ne ho Ce ne ho Venga venga Così la poglia li portiamo a topolini A da mini No minne Chi è minne? Non lo so Sua moglie credo Mia moglie Io non ho una moglie Io sono un ingegnere Non posso avere una moglie Ma mi scusi Ma così me lo dice E villager hanno risolito Nomi con E.R E lei come si chiama? Topoliner No non sono topoliner Come non è topoliner Sono inventoiner Lei è? Inventorer Inventorer E scusi il suo amico Omi Che fantasia Eh Omi non è vero villager Ah ok guardi Lei venga qui Su questo punto preciso Lì su quell'angolo Eh qui Ok Sì in quest'angolo Prego Oh no Ma ha spaventato il monte Questo è Sparta 2.0 No era il modo migliore Per farlo scendere Senza fargli prendere danno Credetemi Grazie signor Paolo Prego di niente Si figuri Ah gli ho detto che mi chiamo Paolo Ragazzi Se lei va lì C'è un letto Si metta vicino al letto Clicchi sul letto Ok tiri un pugno al letto E ci aspetti Se vuole le do dei blocchi Si chiude in una casetta E poi veniamo a salvarla Tutto mi aspettavo Tranne che Topolino Nel bel mezzo Di una palude Sì che vedo Vabbè Comunque Ma perché Topolino Cioè Ma è stata la cosa Non chiedetemi Perché piccare Topolino In mezzo a una swap Perché Cosa fa ragazzi Che c'entra con la lord di Siegfried Quell'essere laggiù Che sto facendo Che sto facendo C'è uno zombie Se c'è uno zombie Scappi 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 Questo qua mi vuole bene No Mi credo Non le vuole bene Nessuno ti vuole bene Guardi No Era bruttissimo Salti qua dentro Salti qua dentro Sicuro Non mi faccio male No Non si fa male Ok Stia qui Non si muova Ok Ok Va bene Non mi uccidete Vero? No La sotterriamo E basta A tra poco Tutto bene? Insomma Non c'è molta aria Qui sotto Quando si chiude Allora mi dia un attimo Madonna che esigente Cazzo L'abbiamo salvato Caga pure il cazzo C'è il signor Gianco Era qua sotto Il signor Gianco Vedete il tunnel Qua sotto Qua sotto ci sono cose Venga con noi Che ci sono Ci sono loschi Figuri qua attorno Non mi f... Oh no ragazzi Oh no Cosa succede? Oh no ragazzi Il mio peggior incubo Matematica Oh è bellissimo Oh che forte Perfetto Meraviglio Yes E' quello che stavo insegnando All'interno delle università Di dove studiavo E quindi può spiegarcelo E può risolverlo lei? Prego Lo risolva Eh certo Che cazzo E quindi il risultato è Il portacolo Non so come si dice Nella vostra lingua Io l'ho studiato In Villa Genese Pozione di intelligenza Ma quella Quella non sarebbe male Non so se funziona su di voi No no Allora Usa la su di te Per prima Eh giusto giusto Fatti vado Ok mi proviamo insieme Oppure Funziona Oh no Beh Ma 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 Grazie Oh ragazzi C'è scritta roba C'è scritta roba C'è Questa pizza napoletana Tutto mi aspettavo Ma non questo Oh no Non altre coordinate Comunque sto decifrando il libro Dice che il rituale è Tanto pericoloso E non andrebbe replicato Perché Smetti subito di provare A replicare il rituale Ho detto smettila Il rituale Non va Replicato Per Nulla Al Mondo Puntini puntini Parole Il diametro Del cerchio Deve essere Di nove blocchi Successivamente Getta Per terra Dieci blocchi In diamante Una verga Di blaze E Piano Mi sto allucinando A leggere sta roba Dieci palline Di Slime Pregiato Che c'è lo slime Pregiato Le mie ricerche Dovrebbero trovare Nelle vicinanze Di Questi numeri Non li riesco a riconoscere Però Questo è molto problematico Erano le coordinate Di prima C'era scritto qualcosa Di recitare A voce alta In coro Una frase L'ho letto molto velocemente Non ho letto Qual è la frase Parlava di cose strane Che non conosco Nella vostra lingua Tipo Per cinque volte Se per me Il sabato sera Comunque Vabbè Io direi Che la cosa più facile Da fare È dirigersi Verso le coordinate E vedere cosa succede Ci sto Ci sto Ci sto Ci sto Ciao a tutti